Allora, prima di iniziare, like, iscrizione, condividete il video con i vostri amici Mi raccomando, scaricate l'app di OneFoot, link in bio, app gratuita a 360 gradi sul mondo del calcio che vi tiene a giornale su tutte le partite della vostra squadra del cuore, sulle partite della Bundesliga, Premier League, Liga, Serie B, Serie C, Serie D Insomma, tutto, scaricate da Gradis, mi raccomando fatelo che questo video è sponsorizzato da loro E ora mi incazzo, come una bestia, come una bestia È inutile fare le partite della vita con il Napoli 0-0 e poi vai a fare queste figure Ma cosa fa italiano? Ma cosa fa italiano? 8 cambi su 11 Posso aprire tre giocatori? 8 cambi su 11 Porco schifo, porco Ogni anno è così Con l'Udinese, ma basta Ma basta Ma che formazione hai messo? E' la Juve sabato E' la Juve sabato Come pretendi vincere con la Juve così? Come pretendi vincere con la Juve così? Venuti Il primo mi viene a dire venuti Giuro, lo faccio fuori Il primo mi difende Ancora venuti Lo voglio A pezzi Perché non è possibile Venere ancora giù e venuti Pure capitano Ma vi è andata di parte il cervello a voi? Ma vi è andata di parte il cervello? Oh Sapolara Ma come Ma addio Cristo Dio Anche Sapolara Cosa mi serve se deve correre due minuti? Quarta fa delle buone e meno maiali Terzi c'è un'insicurezza Nemmeno i porci C'è troppo Se il sabato avanti non esiste L'attacco senza sottile gozzare Non esiste Perché non esiste E poi Madonna di Dio I cambi me li devi fare prima Non me ne fai di nulla Dio vincere l'ottantaseiesimo Mare Mampestata ladra Non è possibile Gli abbiamo regalata Gli abbiamo regalato questa partita Era Non so nemmeno più parlare Andava vinto Sto partita Hai già perso punti a Eppoli Ti sembra il caso di perdere punti anche a Udinese? La Lazio appare già al 92esimo Incredibile la Sampdoria Ma ragazzi Ma Dio santo Dio Ma Dio santo Dio santo Ovvia Uno schifo Uno schifo Uno a zero a Udine E ti è andata pure bene Ma avete rotto le pale O nel possesso pala del 76 80% Cioè non tiri nemmeno in porta Un tiro in 90 minuti Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro in 90 minuti Mi fate stare male Mi fate stare male quando succedono queste cose Io ci sto male Io non esco di asa veramente No no Non ce la faccio Non ce la posso fare No ragazzi No no Questa no Questa no Preferisco perdere con Napoli E vincere queste partite Porco schifo porco Sabato la Juve Stai gioiosino E fili 10 Segnatevelo Speriamo bene Io so veramente paura Noi ci rivediamo Ciao ragazzi E buona serata a tutti Anzi Buona serata Una sera Ciao ragazzi